Scontro mortale lungo il tratto aretino dell'autosole coinvolti nello schianto quattro mezzi, un pullman, un camion e due macchine. L'incidente si è verificato alle 10.30 circa in Corsia Nord al chilometro 338. Nello schianto le cui cause sono ancora al vaglio della polizia stradale, ha perso la vita il conducente dell'autobus che proveniva da Napoli ma che non trasportava passeggeri. L'uomo che guidava il camion e che stava trasportando l'aterizio è stato invece portato nel codice rosso a Careggi. Sempre nel tratto aretino dell'autosole si era verificato poco prima un altro incidente ma con lievi conseguenze e nella carreggiata opposta. Anche in questo caso erano intervenuti i vigi del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. I due incidenti non sono però collegati. Sul posto oltre ai vigi del fuoco i mezzi del 118 aretino e la polizia stradale pesanti le ripercussioni sul traffico.